musica 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 solito G puoi provare una cosa con me amore? andiamo qui e poi entriamo super ok? lootiamo quello che c'è da lootare e poi andiamo ecco la che facciamo all'inizio o se c'è in un team è strange as fuck eliminati tutti i target terra uno qui sotto eh potresti andare al secondo piano e fare un casino sopra nessuno vado 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 al secondo piano di qua bro su qua io su qua su qua crackato uno crackato uno davanti a te morto uno esci pure tu? arrivo arrivo mi sono curato ce l'ho sopra sopra credo fatto c'è un altro team eh possiamo andare sopra possiamo andare sopra e riteccare va bene io c'ho l'rpg dobbiamo trovare un team qua però eh dai andatevene a gula che va qua da me? qua da me? qua da me? eh sono solo il mondo dove esattamente? qua sotto window sotto window sotto window e sopra terra lui scalcato l'altro uno morto sto scappando là let's go nice uno è morto uuuuuh sei da solo lì un attato dietro di te dietro di te adesso l'ha iltato lui? l'ha iltato lui? ho fatto uno io sto andando dietro io sto andando dietro easy abbiamo vinto continuiamo questa partita che bella sta scappando da me push it non c'ho piastra arrivo non ci sono qua non ci sono più porca troia che turnata cagato cagato che turnata una terra? c'è un altro? mamma mia a terra due arrivo 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 mamma mia a terra guarda terra wow quello non c'entrava un cazzo c'è un altro c'è un altro dal cimitare mi sparano davanti a me uno non ci credo non ci credo non ci credo mi ha switchato l'arma vado al culo ah gg boys sono qui da me giro eh ci hanno stammato uno sotto uno sotto bro fattolo 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 un squarcato con da me fattolo sono anch'io sono qua c'è accaduto uno a terra fatti due nice g uno morto da me qua c'è un altro macchina che arriva da me macchina che arriva da me arrivo arrivo è inittabile è inittabile g l'ultima vela ma è super invece hai visto quello che c'è bro ma sono due no due io ne vedo due te lo giuro me ne vedo due vado a super io eh bro oh no vabbè ti serve una mano arrivo ti vorrei chiamare una avv ma non posso non preoccupare ho fatto uno da me bravissimo g arrivo 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 dall'altra scala arrivo bombardamento ti ha attirato uno è una ragione imminente ah li hai restati? ah no era la cosa dall'altra vela dall'altra vela g un donna io ne ho fatto i due eh che si sono buttati alle altre vela ah che erano loro mi hanno sparato da train mi sa dove cazzo mi sparano scusa? ma lo so ma potremmo comprare un UAB no da train si è buttato ok un attimo che riporto la win bro ho straccato uno oh uno da me arrivo ma dai basta che sta detto c'è un altro da me uno da me che sale uno da me che sale full team da me full team da me ah se no le pistole ah infatti mi pushano hard a me mi hanno stunnato anche e li contro stanno f***** si ah vabbè sto infami eh niente guarda me guarda me G guarda me guarda me peccato ma che cazzo io sto a fare questo? io vado a prendere le mie armi se riesco c'è uno che è tornato già là niente vado a prendere le loro armi vaffanculo che cazzo ma ne freg vado a prendere le mie armi grazie travelli ma che stiamo a fare travelli mi vuoi spiegare questo è stato messo a tirare il mio cadavere bro full team da me wow wow bro tutti da me stanno a sparare uno qua devo grassare devo grassare devo grassare pure da 3 questo è un bel game eh se riusciamo eh lo stavo superavo oh c'è uno davanti c'è uno davanti non so non ti preoccupare è un altro team questo è un altro team eh lo so salvatiti 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 questo era tutto un altro team ma che mi stai messi a tirare il mio cadavere maiali di merda ah merda questa qui è difficile me ne vado guarda atti atti vedo se riesco a prendere il top se c'è un'arma a me non li blocco le scale però devo vedere che armi ci stanno no sopra c'è gente sopra gente non al palazzone qua però eh no qua no no al palazzone no no al palazzone e me spara no ok ok easy non ho armi non c'erano minimamente armi lì tieni bro non c'è che ci so che aspettare la cassa di equipaggiamento della quinta safe dai ma un'armetta giusto se ci pushano ti giocando sotto i teggi? si 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 a te a te sono andati bravo piglia le pistoline piglia le pistoline se vuoi prendi la sacchia tutto uno che sale uno che sale vado all'altra parte eh vai hai già salito salito all'altra parte bisogna una mano qua c'è terra G ci sparano da dietro via via giù 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 guarda che non posso scendere li senti sono nell'altra scala vieni sul tetto adesso andiamo dall'altra parte vieni qua a sinistra uno davanti a noi sta entrando sta entrando dentro posso stannare posso stannare G stanno adesso vai uno fuori in strada crackato qua c'è una qua c'è una nice mi spara un altro vieni vieni dentro vieni dentro ma il culo prendo la sacca nice quale vogliamo prendere G? io c'ho delle armi per gannare eh non so tu vabbè si a parte l'M16 è orribile si prendiamo questo prendiamo questo ok scherzavo SM16 è fatta però ci abbiamo 38 bombe che ne pensi? penso che è GG nessuno G? un altro palazzo si però ho detto si 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 sotto fai uno sotto scendiamo scendiamo già scendiamo già scendiamo scendiamo uno sotto la me sta salendo doppie pistoline da questa parte c'è nice era solo uno no qui l'ha fatto bella è toccato uno di là ok ho spaccato un altro sto salendo piano piano sopra campanile sopra campanile sai quanti sono? eh 3 almeno me ne aidano quando io? ho fatto uno oh no non lo so 5 remaining hai fatto? si uno ho fatto l'altro non lo so campanile aspetta lo faccio io si questo è un pick a piuma è stato male con il sniper quindi è tutto bene oh heavy bro ho fatto quello dietro bravo ho fatto quello dietro bravo dietro il muretto se sei al pressa sei al pressato sei al pressato sei al pressato sei al pressato temi a sinistra abbiamo vinto? wow wow andiamo andiamo bella partita ci hanno dato pure la win ovviamente bella lomba bella 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 ragazzi bella ragazzi bella gg bella gg gg buona serata buona serata buona serata let's go bella 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 bella